Andrea Amato che fa un straordinario lavoro con una newsletter dell'Osservatorio Europeo che trovate anche quella su Trasco e poi Camilla De Simone di Paese Reale ce ne mancano sei, se siamo bravi finiamo tutti insieme allora intanto vorrei chiedere al Presidente Musacchio allo scadere dell'ultimo minuto di avvisarmi non mi interessa se sono cinque se sono sette, l'ultimo minuto mi avviso poi siccome sono un compagno disciplinato non scapperò dall'indicazione di parlare della newsletter che facciamo in collaborazione tra Transform e l'Osservatorio sull'Unione Europea è pubblicata su Transform è monotematica in ogni numero c'è una prima pagina anzi una pagina e mezzo che descrive le motivazioni gli obiettivi il perché l'abbiamo quindi andatevelo a vedere fine della comunicazione di servizio adesso vorrei parlare invece di un paio di cose che riguardano il tema della nostra Assemblea la prima questione è la pace la pace come parola d'ordine non mi convince più il termine pace è un termine usurato nei film americani cosa vuoi voglio la pace nel mondo basta bisogna ribaltare il paradigma bisogna che la parola d'ordine diventi siamo contro la guerra e la guerra è il problema perché la pace la vogliono tutti e essere contro la guerra che invece è una cosa specifica anzi io preferirei quello che aveva inventato e dato il titolo a un famoso libro nel 1924 Ernest Friedrich e il titolo era guerra alla guerra guardate non è un problema puramente di comunicazione è anche un problema di comunicazione ma non è solo un problema di comunicazione perché fare la guerra alla guerra significa fare la guerra alle motivazioni alle cause della guerra cioè alle sue cause economiche alle sue cause politiche alle sue cause sociali alle sue cause culturali cioè tutte le cose che abbiamo detto in questa giornata o le affrontiamo nel perimetro di una guerra alla guerra oppure noi facciamo le cose da una parte vogliamo la pace dall'altra parliamo contro il capitalismo eccetera e non uniamo mai le cose oppure se le uniamo le uniamo solo a livello come dire così di di discussione ma non di strategia politica l'altra questione che voglio invece affrontare è il rapporto tra guerra e democrazia allora abbiamo visto anche dai sondaggi anche quelli di questa mattina eccetera c'è un'opinione pubblica i cittadini europei non vogliono la guerra però c'è un establishment che è dato dai poteri politici dai governi dalla stampa dai media insomma da chi fa opinione che sono tutti per la guerra e allora il problema è ma se i cittadini non vogliono la guerra perché chi comanda riesce invece a imporre questa questa via bellicista è perché c'è una rottura democratica nel processo democratico cioè la volontà dei cittadini non arriva dove deve arrivare e soprattutto non arrivi in Europa nemmeno a livello nazionale ma occupiamoci dell'Europa non arriva l'Europa perché c'è un collo di bottiglia che si chiama intergovernativismo perché come diceva Riccardo Petrella da trent'anni siamo dominati dalla dittatura della governance cioè qualche cosa che comanda senza rispondere a nessuno in sostanza siamo di fronte a un'Europa che ha espropriato la sovranità popolare e però questo ha poi come dire dei riflessi no? ha delle conseguenze perché parliamo tanto di crisi della democrazia c'è solo il 50% dei cittadini che va a votare ma perché la gente non va a votare? Perché un tassista qualunque ve lo può dire ma che vado a votare a fare se poi il mio voto non conta niente? Ed è vero perché i centri decisionali sono altrove e allora voi vedete è un cortocircuito non si vota perché si pensa che il proprio voto non conti niente perché le decisioni vengono prese altrove in Europa o addirittura a livello globale come effettivamente è e però il fatto che le decisioni si prendono lì fanno sì che la gente non voti allora come si interrompe questo cortocircuito come si ripristina ripristina la democrazia in questo continente guardate pensando a queste cose proprio ieri l'altro ieri non mi ricordo i compagni mi hanno mandato poi l'ho ritrovato anche altrove citato da altri eh una intervista un video con una intervista di un signore che si chiama Fabio De Masi che è il consigliere di Sara ora ho scritto perché è difficile Sara Wagen Wagen Knecht Andrea due minuti te lo dico prima due minuti invece che a un minuto te lo dico a due due minuti sì ne hai fatti sette allora questo eh signore dopo un'analisi corretta del perché appunto le cose che ho detto fino adesso no? le decisioni si prendono eh dove i cittadini non hanno la possibilità di di contare la globalizzazione finanziaria eccetera eccetera beh qual è la risposta che terrificante per me che questo signore dà dobbiamo riportare le decisioni a livello dello Stato nazionale perché lo Stato nazionale è quello che fino a a qualche tempo fa ha garantito un processo la la esplicitazione la esplicazione di un processo democratico cioè una sorta come dire di nostalgia della Germania eh della Germania locomotiva dell'Europa allora vabbè è chiaro è tedesco anche se di origine italiana dal suo nome e in Germania c'è un precedente nobile rispetto a questo che è la sentenza del 1993 della Corte Costituzionale eh tedesca che diceva eh non ci non che a proposito di Maastricht eh diceva no non possiamo essere d'accordo perché eh non c'è uno Stato europeo e non essendoci uno Stato europeo non c'è un demos europeo non esiste un popolo europeo e se non esiste un popolo europeo non ci può essere sovranità popolare a livello europeo la sovranità è solo a livello nazionale allora taglio corto sulle motivazioni come dire culturali di questa impostazione che sono di tipo etnico etnico e antropologico nel senso scientifico dell'etnos e topos e logos e etos ma non abbiamo il tempo di entrare in questa cosa qui però qual è la questione è che ritornare diciamo abbassare ritornare indietro e cercare diciamo con un'operazione di ricerca dell'identità di sottrarsi alle diversità è un processo come dire che non porta da nessuna parte ed è perché perché nemmeno lo Stato nazionale ti mette a riparo da questo allora ti rinchiudi nelle regioni e poi nel comune e poi nella comunità religiosa culturale non basta anche lì c'è un problema di democrazia allora ti rinchiudi nella famiglia la famiglia oddio santo la dittatura dei genitori oggi la dittatura dei figli della coppia ah no matriarcato patriarcato nemmeno lì con te stesso santo di Dio c'è l'iper il superio e c'è l'istinto e no non va non possiamo andare d'accordo l'istinto che cos'è se non la trasposizione a livello individuale del populismo a livello a livello nazionale è la stessa cosa beh allora non ti rimane altro che il suicidio insomma ecco detto questo e finisco in 30 secondi che è la parte più importante Maurizio Maurizio Cerbo ha detto una cosa molto importante non possiamo sfuggire alla questione della rappresentanza perfetto e questo significa strategia elaborazione di contenuti obiettivi politici eccetera da portare con la rappresentanza nei luoghi della decisione politica e però c'è una precondizione che esistano questi luoghi dove si possa esercitare diciamo nel rispetto della sovranità popolare le decisioni che vengono che vengono dal basso bene oggi non c'è a livello europeo abbiamo visto che non ci può essere a livello di stato nazionale perché è una via che non ti porta da nessuna parte e non capisco come tanti compagni anche sono affascinati compagni italiani da questa questione perché allora se l'Europa non va ritorniamo allo stato nazionale no questo non è possibile e in questo mi dispiace che non c'è la compagna come si chiama Cornelia perché la risposta potrebbe venire da loro in quella famosa sentenza della corte costituzionale che ho citato prima del 93 a parte diciamo no non si può avere una sovranità nazionale perché non c'è lo stato lo stato europeo no dicono perché ancora letteralmente perché ancora non c'è uno stato federale europeo e allora prendete la palla al balzo facciamolo questo stato federale europeo allora qui il problema è quello che riguarda anche noi io vedo tanta ritrosia tanta timidezza nel porsi l'obiettivo federalista è vero che il federalismo è stato sputtanato a livello italiano a livello europeo eccetera però non ci sono non vedo delle 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 come dire delle argomentazioni forti dice non vogliamo super stato ma il super stato ce l'abbiamo già ma il super stato è quello è quello che vuole fare eh Draghi eh non vogliamo gli Stati Uniti ma gli Stati Uniti nessuno vuole fare gli Stati Uniti d'Europa è solo eh Renzi vuole fare gli Stati Uniti d'Europa forse noi dovremmo pensare a una repubblica eh federativa cioè nel senso che federa europea però questo ovviamente lo dicevo a pranzo al segretario io non sono iscritto a rifondazione quindi utilizzo questa agorà per dire quello che penso e eh una volta siccome ho l'età eh contrariamente a quello che diceva la compagna stamattina mi sento di dire anche quello che si dovrebbe fare non quello quello che faccio che quello che faccio l'ho fatto in eh sessant'anni di vita e non non serve a nessuno oppure può servire qualcuno e allora eh per concludere dicevo eh non mi ricordo più era chiarissimo era chiarissimo grazie di tutto quello che hai fatto e quello che fai